Sette ambulatori dotati delle più moderne attrezzature necessarie per la somministrazione di farmaci ma anche l'immunoterapia e il trattamento di eventuali reazioni e poi due sale per le accettazioni, il tutto in ambienti climatizzati e con nuovi arredi. Il reparto di allergologia dell'ospedale di Civitanova Marche, un'eccellenza della sanità marchigiana e nazionale, cresce, lo fa nelle dimensioni ma anche e soprattutto nei numeri e non occorre certo partire dalle cifre per dimostrare che a volte la sanità pubblica in Italia funziona e come. Nel 2019 l'allergologia civitanovese ha assistito 15.300 pazienti con 25.700 prestazioni eseguite. A dirigere la struttura il dottor Stefano Pucci, la cerimonia di inaugurazione a causa del virus si è svolta solo a settimane di distanza dal completamento dei lavori nel marzo scorso. È stato realizzato un reparto funzionale di altissimo livello che si proietta fuori dai confini dell'area vasta 3 per le attività svolte, spesso sconosciute. Un modo di lavorare che rafforza la convinzione di aver investito bene in questi anni a favore di una sanità sempre attenta all'evoluzione in corso. La nuova allergologia civitanovese si è trasferita al terzo piano alla est nella ex rianimazione. Ora dispone di tre sale d'attesa, suddivise secondo le patologie allergologiche di maggiore rilevanza e che permettono il monitoraggio e la gestione terapeutica dei pazienti con problematiche differenti. Per l'allestimento del reparto sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria su una superficie di circa 600 metri quadrati con un investimento di 117 mila euro.